ciao a tutti raga ben ritrovati in questo nuovo episodio della skygrind ho fatto qualcosina off camera come al solito ovvero ho creato la stanza che contiene gli scheletri wither e ho anche farmato un bel po' infatti ora vi farò vedere che cosa ho droppato ho creato queste diciamo recinzioni con le staccionate di legno in modo tale che io posso mettermi qua e grazie al flusso d'acqua che scorre verso questa parte posso uccidere di giorno i scheletri quindi vedete ogni tanto rimangono un po' bloccati lì dietro ma non è un problema anzi poi ho visto che si sbloccano quindi la farm funziona ecco qua abbiamo preso anche una testa di scheletro wither benissimo ora vi faccio vedere che cosa ho farmato off camera e abbiamo bisogno di 5 diamanti questo perché tre per il piccone di diamanti appunto per recuperare l'ossidiana e due per il tavolo di incantesimi visto che ce lo chiede la quest ho sistemato anche qua sotto mi sto allargando piano piano e qua ho creato una piattaforma per poterci costruire il tavolo di incantesimi quindi con le librerie allora ho questa cassa ecco qua vedete con tutta la roba che ho farmato con il nuovo spawn di scheletri wither un sacco di pepite d'oro e quattro diamanti che non sono stati diciamo facili da recuperare e quindi ce ne manca ancora uno che andremo a farmare insieme quindi adesso io mi metterò qua e farò una clip accelerata in cui ucciderò miliardi di mob speriamo di non ucciderne tanti per recuperare l'ultimo diamante ma vedremo comunque ragazzi adesso mi metto qua e inizio a grindare come un disperato sì Grazie a tutti. 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 Il tavolo degli incantesimi che come ben sapete, ce n'è un altro qua, vabbè di pezzo ma non ci serve. Come ben sapete servono allora un libro, quindi mi prendo la roba per fare il libro, ovvero un pezzo di pelle, tre di canna da zucchero, perché l'ho lasciati? Porca miseria. Grazie a tutti. Guardate ma ogni tanto mi sbaglio a cliccare, ecco qua ci facciamo un bel libro, così abbiamo tutto, ci mancano diamanti, perfetto. Siamo pronti ragazzi, possiamo continuare con le quest. Allora, due diamanti, allora due diamanti e un libro, benissimo, tavolo degli incantesimi, alla grande, hai completato la quest. Ora dobbiamo fare uno stack di nether wart. Vediamo subito, vediamo subito dove, allora, eccola, ok. Allora non serve andare nel nether, perfetto, perfetto, quindi mi faccio una bella passerella, mi faccio una farm di nether wart. Ok, quindi, nel frattempo io direi, abbiamo un sacco di cose per poterci fare le librerie, quindi a questo punto io faccio una bella cosa. Mi faccio un bel po' di carta, poi andrò a uccidere un po' di mucche e ci facciamo un po' di librerie, così iniziamo anche a farci qualche incantesimo. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Qua così, gioco oggi impazzito, proprio completamente. Allora, facciamoci un po' di librerie così al volo e iniziamo a piazzarle, così. Allora, perché? Opla, perfetto, via. Quante sono? Sette, ce ne mancano altre otto, quindi andiamo a uccidere un po' di pecore, intanto io direi che questo possiamo anche lasciarlo qua, figata. Andiamo a uccidere un po' di pecore, ma che cosa mi prende oggi? Un po' di mucche. Mannaggia a me e alla mia dislessia da skygrind. Vai, ammazziamo un po' di mucche e ne lasciamo qualcuna in vita, giusto per continuare ad averne un po'. Quindi ci servono, facciamo il calcolo, otto librerie, ovvero, per ogni libreria sono tre libri, quindi tre per otto, ventiquattro. Ventiquattro pezzi di pelle. Non so se ci basteranno, perché non abbiamo neanche una spada con fortuna. Quindi dovrò aspettare a farne qualche... Oh, forse no, forse no, forse ce la facciamo, ragazzi, forse ce la facciamo. Allora, vediamo un po'. Ventitré, dai. Ok. Ventitré, dai. Non stare attento a non ucciderle tutte, se no rimango... Ok, ventiquattro. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Intanto là i mob spawnano. Comunque, ragazzi, fatemi sapere anche se vi piace risposta adesso questa zona. Vedete, abbiamo le varie farm, tutte abbastanza chiuse bene. O comunque, ho fatto quel che potevo, però sono funzionali, ecco. Adesso devo anche mettere a posto di là. Tra l'altro ora, questi blocchi qua di quartzo ci daranno un sacco di esperienza. Buono perché ho 42 livelli, devo spendere in qualche modo. Io direi che potremmo anche incantare la nostra spada di diamante, oppure il nostro piccone. Vedremo, vedremo. Allora, abbiamo detto, ci facciamo le librerie. Ne abbiamo sette. Ora, vediamo un po'. Carne da zucchero, come siamo messi? Direi abbastanza bene. Lo vediamo subito. Non sono bravo in matematica, ma nel dubbio faccio sempre qualcosina in più. Quindi, così, quindi... Dovremmo starci dentro. Sì, esattamente. Legna. Ce ne servirà ancora un po'. Alla grande. Allora, mettiamo libri. Quindi, così. Poi, blocchi di legno. Via. Librerie pronte, ragazzi. 15 librerie. Le mettiamo subito. E quasi quasi ci facciamo al primo incantesimo. Facciamo tutto insieme, così ragazzi, almeno andiamo avanti un po' con le quest, con tutto quello che ne concerne. Allora, se l'ho detto così, no, forse funziona lo stesso. Sto per fare un grande fail, ma fa lo stesso. Vediamo un po' se funziona. Allora, mettiamo in questo modo. Allora, così. Si lo sa un po' assimmetrica la cosa, un po' improvvisata. Intanto vediamo se funziona qua. Ci servono i lapislazzoli che... Mi sa che non ho. No, no, i lapislazzoli! Panico, ragazzi. Non possiamo fare incantesimi. Non possiamo fare incantesimi. Intanto vediamo se funziona. No, non funziona. Devo mettere le librerie in un altro modo. Devo mettere forse qua sotto. Sì. Vabbè, ragazzi. Sistemerò per bene qua la zona. Che fail. Incredibile fail. Non abbiamo lapislazzoli. E quindi non possiamo fare incantesimi. Perché non ci ho pensato prima? Perché non ci ho pensato prima? Comunque, ragazzi. Io direi che per questo episodio è tutto. Vi mostrerò i progressi della farm di Verruc del Nether. Sistemerò anche la zona del tavolo degli incantesimi. Tanto per il momento non possiamo farne ancora. Perché non abbiamo i lapislazzoli. Per questo episodio è tutto, ragazzi. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate di quest'area. Se vi sta piacendo, se vi sta piacendo la serie. Datemi anche dei consigli se vi va. Io li accetto sempre e volentieri. Anche le critiche, perché no? Quindi, ragazzi. Da Gioco Sporco è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.